Oh, su serio te lo giuro, fai colloqui di qua, questa è una che si chiama Jennifer Schiavon, roba da matti Ma tu devi vedere com'è che hai scritto, ma dopo ti conto che cos'è, dai, sì sì, ciao, sì, ciao, ciao, ciao Eccomi, buongiorno, io sia signorina, oh, Jennifer, che bel nome, grazie, anche se l'hai scritto strano E' successa l'anagrafe, il che ha domandato a me pare, come si scrive Jennifer, qua G, ovvio E ora, faccio il curriculum, il curriculum, certo, io ando qua, aspetta, non si vede, guarda, vengo, mi sai che il ruggine ho tutto il mestiere qua, come faccio adesso? Per caso ho detto l'antilugine, no, e ora mi tocca a dire il curriculum a voi, ando a lavorare in tanti posti, ando a fare una laurea, e aspetta, la laurea? Sì, una laurea, e dopo... Sono curioso, laurea in cosa? E' vero! Eh? Cosa è vero? Oh, madonna, è pareva rotto Ma dai, dove? Sì, sul bikiniolo Scherzito Incredibile, è pareva crepò A goccia fa una paura Sara, ma ieri mi devo parlare della tua laurea Guarda, no, sì, serio, è pare rotto Ah no Senta te Sì, sì, scusami, che sembra che so Senta che se tu andiamo in giro, tu non ti ha competenze Ti dici Ma se ti fai un corso di garanzia giovani, ti potrei venire a fare un stage Se hai ancora il tempo, poi iscrivete Garanzia giovani? Ma se è vero che stagia se pagai? E che stagia se pagai? Ma se sei così, ora? Pensavo non fosse vero Adesso so che è vero Grazie mille Va tranquilla, è vero È certo, è vero Ai! Ecco È vero? È come se è vero Oh, iscrivami, se vediamo presto Ok E che stagia se pagai?